Buongiorno, benvenuti. A nome di Affinity Pet Care è la nostra prima occasione d'incontro. Volevamo affrontare i colleghi veterinari con un argomento a noi sensibile, ma anche con un relatore per noi molto importante, ma per la dermatologia italiana in generale molto importante. Alessandra Fondati, penso che gran parte di noi hanno incrociato il suo nome nel corso delle frequenze in ambito clinico e congressuale. L'argomento è la gestione del pulito persistente e come viene approcciato da parte della dermatologia, dove spesso noi in clinica a volte ci fermiamo o abbiamo dei dubbi nella gestione dei pazienti. Quindi vi lascio alla relazione dell'autoressa Fondati e ci salutiamo poi successivamente. Grazie. Grazie mille ad Affinity e in particolare al dottor Bianchini e al suo staff per avermi invitato oggi qui a parlare del prurito. Ho uno spazio piccolo dove potermi muovere perché credo che c'è una ripresa andiamo in mondo visione, quindi attenzione. Allora, oggi parliamo di prurito ma in particolare parliamo di quei casi in cui il cane continua ad avere prurito nonostante la terapia che abbiamo prescritto e che ragionevolmente consideriamo adeguata ed efficace per trattare il problema del paziente in quel momento. Il proprietario, normalmente per telefono, ci chiede che cosa deve fare e noi proviamo a rispondere da parte nostra. Non è una risposta facile, come sapete. Per prima cosa, prima di rispondere, bisogna cercare di capire il perché, perché il cane non risponde alla terapia e ovviamente ci sono tante ragioni che dipendono da tante cause e in particolare dipendono anche dal tipo di prurito, come vedremo, che stiamo trattando. In generale, da un punto di vista così semplificativo, se vogliamo, i due motivi principali della mancata risposta alla terapia sono o problemi di diagnosi, nel senso che se la diagnosi non è corretta, ovviamente la terapia non è efficace, o nel caso in cui la diagnosi sia corretta, problemi di terapia, nel senso che va aggiustata la terapia in funzione delle esigenze di quel paziente in particolare. Quello che sì dobbiamo fare è resistere più possibile alle insistenze del proprietario che vuole una risposta per telefono. Questo non lo possiamo fare perché, come si è detto, sono tanti i motivi per cui non c'è risposta o non ci può essere risposta alla terapia e per poterli identificare è necessario visitare il cane. Il proprietario cercherà di convincerci in tutti i modi di dare una soluzione o un consiglio telefonico, ma quello che dobbiamo fare è dire che è controproducente o potrebbe essere controproducente per la salute del cane, perché se suggeriamo per esempio di aumentare il dosaggio del farmaco antinfiammatorio, se il cane non risponde alla terapia che abbiamo prescritto e poi la causa del prurito è magari una malattia parassitaria o un'infezione batterica, non stiamo facendo il bene del paziente. L'unico suggerimento che possiamo dare in attesa della visita è utilizzare bagni frequenti con shampoo emollienti. Questi in ogni caso non fanno danno, indipendentemente dalla causa del prurito e della riacutizzazione del prurito. Se il proprietario è d'accordo può anche fare bagni giornalmente, anche di tutta la superficie cutanea o anche di parti, perché l'azione dell'acqua è un'azione idratante, ha un effetto lenitivo sul processo infiammatorio cutaneo e quindi può aiutare nel caso del prurito. I motivi, diciamo, come si diceva, della mancata risposta alla terapia cambiano in funzione del tipo di prurito che stiamo trattando. Possiamo trattare un problema di prurito di cui ancora non conosciamo la causa, oppure possiamo trattare un cane atopico e quindi abbiamo fatto la diagnosi correttamente di dermatite atopica. La dermatite atopica è una malattia cronica che causa prurito e quindi in questo caso qui il prurito deve essere trattato. È uno dei casi in cui abbiamo necessità di fare trattamenti prolungati del prurito perché in questo caso non potendo rimuovere la causa del problema, nel caso della dermatite atopica, ovviamente le conseguenze e la malattia è prolungata nel tempo e questo lo sapete e lo vedremo comunque. Facciamo l'esempio di un episodio di prurito attribuito a una probabile causa allergica in cui non osserviamo risposta alla terapia. A che cosa mi riferisco in questo caso qui? Mi riferisco a che quasi in cui trattiamo prurito senza avere ancora la diagnosi. Noi abbiamo un cane con un episodio di prurito ad insorgenza acuta, per esempio, in cui in base all'anamnesi e ai segni clinici pensiamo che sia possibile ipotizzare una causa allergica sottostante. In questo caso, dato che abbiamo necessità di azione rapida della terapia e probabilmente avremo anche necessità di una durata non particolarmente lunga, è un episodio iniziale e noi non sappiamo bene ancora quanto durerà, ci conviene utilizzare farmaci che abbiano un'azione rapida e che con maneggevolezza possiamo iniziare e sospendere nell'arco di breve tempo, come per esempio glucocorticoidi per via orale oppure oclacitinib. In questo caso, se noi non osserviamo risposta a questa terapia e non ci vuole tanto per saperlo questo, perché un proprietario ha una soglia di tolleranza nei confronti del prurito abbastanza breve, per cui se il cane non migliora nell'arco di tre o quattro giorni alza il telefono e ci dice che il cane non risponde, non sta migliorando, non si riduce il prurito in questo caso. Quali sono le cause possibili? Sempre dobbiamo visitarlo, vi ricordo, ma in questi casi l'ipotesi più probabile è che ci siano dei problemi nella diagnosi, perché se effettivamente si tratta di un problema di natura allergica acuto, dei farmaci come glucocorticoidi per via orale o clacitinib, che è efficace quasi nel 90% dei casi di prurito di origine allergica, ragionevolmente devono essere efficaci. Quindi che cosa può voler dire? Che magari, anche se abbiamo eseguito raschiati cutanei con esito negativo, il cane può avere l'arogna sarcoptica. Tutti lo sappiamo che i raschiati negativi non ci permettono di escludere la diagnosi di rogna sarcoptica. Tra l'altro, nei primi giorni di terapia, anche con o clacitinib, ci può essere miglioramento clinico nei cani con rogna sarcoptica. Perché? Perché nella patogenesi del prurito nella rogna sarcoptica c'è una componente immunomediata dovuta a una reazione di ipersensibilità nei confronti del parassita e una componente di prurito legata alla presenza del parassita stesso, per cui la componente immunomediata migliora con la terapia antiallergica, antinfiammatoria, mentre la componente legata alla presenza del parassita, se non si tratta con acaricidi, ovviamente non migliora. Oppure può essere che quelle zone di alopecia ed eritema che noi abbiamo attribuito nel cane a una causa allergica fossero invece da attribuire, diciamo, fossero associate a una piodermite. In questo caso, se noi somministriamo glucocorticoidi per via orale, ragionevolmente il problema non migliora. C'è poi un'altra malattia che forse viene anche un po' sottoconsiderata o sottodiagnosticata in ambito clinico, ma forse perché non è tanto riconosciuta, non ci si pensa abbastanza, ed è questa. E ora vedremo di che cosa si tratta. Luna è un simil pastore tedesco femmina di 7 anni che ha una diagnosi di dermatita topica o presunta tale perché ha degli episodi di prurito non tanto grave e di otiti ricorrenti, però diciamo la causa è stata considerata la dermatita topica. A detta del proprietario, le parole tra virgolette sono le parole del proprietario, il cane negli ultimi 4 mesi ha problemi di arrossamento della pelle, prurito, forfora e perdita di pelo. Questi segni clinici sono stati attribuiti a un peggioramento del problema allergico sottostante ed è quindi stato suggerito di trattare questo cane con oclacitinib. Ma in due settimane di terapia non si ottiene nessun miglioramento. Questo non è normale se il cane è allergico e se il problema è dovuto a una dermatite allergica, il miglioramento lo dobbiamo vedere. Come ripeto, in più del 90% dei casi è efficace oclacitinib per trattare il prurito di origine allergica. Ma vedete che questo cane ha dei segni clinici un po' particolari, si vede un'irregolarità del mantello. Questo mantello in queste zone qui è molto corto e da vicino si vede che ci sono scaglie, quello che il proprietario ha definito forfora, scaglie e grigiastre aderenti alla superficie cutanea e alla base del pelo. Perché in realtà il problema di questo cane è un'adenite sebacea idiopatica. L'adenite sebacea è una malattia granulomatosa o più granulomatosa, sterile, in cui ragionevolmente la fisiopatologia del prurito, cioè le cause che determinano prurito, non sono dovute agli stessi mediatori coinvolti nel prurito dei cani atopici, perché la terapia per esempio con oclacitinib in questi casi non è efficace per controllare il prurito. Si potrebbe ipotizzare che probabilmente la componente desquamativa gioca un ruolo nella patogenesi del prurito e quindi in questo caso qui non si osserva risposta. Questo per ricapitolare quindi il tema, mancata risposta alla terapia di un prurito di cui ancora non conosciamo la causa. D'accordo? Poi c'è il prurito dei cani atopici, quindi un prurito di cui noi conosciamo la causa. Prima di passare a vedere quali possono essere le cause di mancata risposta alla terapia, volando ripassiamo brevemente l'iter diagnostico della dermatita topica in modo tale che quando parliamo di dermatita topica tutti pensiamo alla stessa cosa. La dermatita topica viene diagnosticata per esclusione di tutte le cause di prurito allergiche e non. Non c'è nessuna prova diagnostica diretta, come sapete, che ci permette di diagnosticare la dermatita topica. Quindi è un iter a tappe, a step, che consiste nel escludere e trattare le ectoparassitosi, la dermatita allergica alle pulci, escludere e trattare, se sono presenti, le infezioni batteriche e fungine, in particolare mi riferisco alla dermatite da malassezia. Nel caso in cui il prurito e i segni clinici persistano bisogna escludere l'allergia alimentare attraverso una prova con una dieta di eliminazione che dura perlomeno otto settimane e che deve essere sempre accompagnata dal trattamento con ectoparassiticidi e se alla fine delle otto settimane non si osserva miglioramento clinico per cui persistono sia il prurito che i segni clinici viene diagnosticata la dermatite atopica. Questo è l'iter diagnostico e non è, è ben diverso da quello che riassume il proprietario e che dice vabbè dottore andiamo a tentativi. No, non è andiamo a tentativi perché i tentativi sono casuali, invece questo è un iter le cui tappe devono essere in questo ordine perché cambiando l'ordine dei fattori il prodotto cambia in questo caso, non si può fare prima una cosa escludere l'altra, cioè non si può fare prima la prova dietetica e poi trattare le infezioni batteriche concomitanti, no, l'iter deve essere per forza questo e alla fine ci porta a un obiettivo che è, non so se è veramente la luce in fondo al tunnel perché avere una diagnosi dermatite atopica non è una gran luce, però alla fine arriviamo a diagnosticare la dermatite atopica e al solito prima di vedere perché può non rispondere al trattamento il cane atopico vediamo quali sono i farmaci che noi abbiamo a disposizione per trattare la dermatite atopica. I farmaci principalmente sono questi e secondo quanto proposto più recentemente da Thierry Olivier è interessante a mio parere considerarli in funzione del loro spettro di azione perché ci può aiutare a interpretare la risposta e la mancata risposta, nel senso che ci sono farmaci che hanno uno spettro di azione ampio e sono i glucocorticoidi e la ciclosporina A, sono farmaci che hanno un'azione antinfiammatoria e quindi l'azione antiprurito deriva prevalentemente dall'azione antinfiammatoria, in funzione del dosaggio e della durata del trattamento l'azione antinfiammatoria può diventare azione immunomodulatrice ed eventualmente anche immunosoppressiva, è chiaro perché noi non abbiamo un pool di cellule infiammatorie e un pool di cellule che servono per la risposta immunitaria, sono sempre le stesse cellule, per cui se le inibiamo troppo alla fine si riduce anche la risposta immunitaria. Abbiamo farmaci con uno spettro intermedio come Euclacitinib in cui sì c'è un'azione inibente sull'interleuchina 31 che è la citochina principale mediatore del prurito dei cani atopici, ma diciamo le Januskinasi 1 che sono gli gli enzimi inibiti da questo farmaco sono coinvolti anche nei recettori per altre citochine, citochine pro-infiammatorie, quindi ha in parte un'azione antiprurito, in parte un'azione antinfiammatoria, per lo meno per quanto sappiamo al momento. E poi c'è il LOKIVETMAB che è l'anticorpo monoclonale anti-interleuchina 31, la terapia mirata per eccellenza con uno spettro stretto, quindi ha un'azione antiprurito ma non agisce sulle cellule infiammatorie in questo caso, no? Ed è un altro mondo, è terapia biologica. Tutti hanno la loro importanza ovviamente e il loro ruolo. Vediamo quindi ora nei casi in cui abbiamo la diagnosi di dermatite atopica, l'abbiamo appena fatta questa diagnosi, siamo arrivati ora in fondo all'iter diagnostico, quindi siamo all'inizio della terapia e cominciamo la terapia con uno dei farmaci che abbiamo appena visto, decideremo quale in funzione di tanti elementi che non stiamo ora qui a esaminare e come al solito anche qui l'intervallo di sopportazione, cioè il tempo di sopportazione del proprietario da quando si comincia la terapia a quando ci chiama per dire che non migliora è corto, dopo pochi giorni immediatamente, no? Chiama per dire il cane non migliora, non risponde alla terapia. In questo caso se abbiamo fatto le cose bene non dubitiamo della diagnosi, l'abbiamo appena fatta, il cane è atopico, no? E quindi perché può non rispondere alla terapia in questo caso? Beh, ci sono anche qui tanti motivi chiaramente e li dobbiamo rivalutare, li dobbiamo considerare. Il primo di tutti è la compliance a mio parere, cioè la prima cosa che dobbiamo valutare è se il proprietario ha preso il farmaco giusto, lo somministra correttamente, il cane non lo sputa e tutto quello, diciamo, il resto che noi sappiamo. Poi va considerato anche da quanto tempo ha cominciato la terapia, cioè in nessun caso nessuna terapia è miracolosa, non si fa il bagno, cioè il bagno è l'acqua benedetta, ogni farmaco diciamo ha bisogno del suo tempo. Qui vedete i farmaci elencati in progressione dal minor tempo necessario per vedere l'effetto al maggior tempo necessario per vedere l'effetto. Questo noi però lo dobbiamo spiegare al momento della prescrizione al proprietario, quanto tempo deve aspettare per poter valutare l'effetto della terapia e quindi oclacitinib ha un'azione molto rapida, la massima azione si vede in 24-48 ore ma già in poche ore si può vedere l'effetto, anche i glucocorticoidi hanno un'azione rapida, il locivetmab può avere un'azione rapida anche in 8 ore ma il massimo effetto si vede in una settimana, quindi meglio dire al proprietario si valuta l'effetto in una settimana, dobbiamo aspettare, no? E come tutti sapete la ciclosporina ha necessità di più tempo per manifestare la sua efficacia clinica. E poi c'è un punto importante a mio parere che è la correlazione tra segni clinici e terapia che abbiamo prescritto al momento di valutare la mancata risposta. A che mi riferisco? Mi riferisco a quel discorso dello spettro che abbiamo appena fatto, no? Cioè noi sappiamo che, per esempio, questo è uno studio controllato tra locivetmab e ciclosporina in cui si è visto che locivetmab ha un effetto, diciamo un'azione antiprurito, è logico, no? Si è appena detto, superiore all'azione antinfiammatoria, è un anticorpo monoclonale che blocca selettivamente l'interleuchina 31, il mediatore principale del prurito ma non ha azione antinfiammatoria, quindi è normale che in un caso in cui il processo infiammatorio, diciamo, sia dominante rispetto al prurito nella patogenesi dei segni clinici del cane atopico, in questo caso qui locivetmab può essere meno efficace rispetto a un farmaco con azione antinfiammatoria ad ampio spettro. Vi faccio un esempio. Questo è Frankie, ha i blocchi di partenza, come vedete, pronto per scattare. D'altra parte, questi cani poveri sono sempre un po' in difficoltà, in qualunque posizione li mettiamo per la conformazione fisica che hanno. È un bulldog inglese di tre anni e mezzo. Un anno prima è stata diagnosticata una dermatite atopica che si manifesta, e tutti lo sapete che tormento che sono queste pododermatite in questi cani, una pododermatite con papule e noduli interdigitali, prurito, questi sono i papule e noduli interdigitali, prurito ed eritema della superficie cutanea interdigitale, dorsale ed anche ventrale. Questo è un cane che non risponde ad oclacitinib ma risponde a prednisone. Perché? Perché per quanto lo spettro di azione di oclacitinib sia intermedio, abbiamo detto, ha un'azione sia antipurito sia antinfiammatoria, ragionevolmente non è abbastanza antinfiammatorio come effetto e come azione per poter controllare questo processo, in cui l'infiammazione è dominante rispetto al prurito nella patogenesi delle lesioni. Non so se sono riuscita a spiegarmi, diciamo. Questa disparità a volte tra prurito e processo infiammatorio cutaneo la vediamo clinicamente, questo è un esempio, ma ci sono anche altri casi, per esempio nelle otiti il processo infiammatorio è dominante rispetto al prurito nel determinare l'insorgenza e la presenza dei segni clinici. Se ci sono dubbi e mi volete fare domande, anche durante o dopo, come vi pare, cioè open, e poi può succedere che il cane atopico peggiora durante la terapia di mantenimento e questo sapete, non so se si sente, ma io non sono romana e lo sapete, però a Roma il proprietario, con questo fenotipo, chiama e dice, non ho questo fenotipo proprio del romano, ora non so se ci sono romani, insomma io sto a Roma, quindi da tanti anni. Dottore, stiamo da capo a 12, no? A me ci è voluto un po' per capire com'è, cosa voleva dire stiamo da capo a 12, perché io ero venuta a dire siamo punte da capo, no? Stiamo da capo a 12 vuol dire, è molto, c'è una base profonda, no? Perché dice, si ricomincia da gennaio praticamente, sono i mesi, i 12 mesi, si riparte dall'inizio dell'anno, come per dire, ristiamo di nuovo da capo un'altra volta, no? Certo, quando ci si sente dire questo, stiamo da capo a 12, 12, non è molto, diciamo, non siamo felici, però bisogna, e questo è parte del nostro lavoro, ma questo, diciamo, teoricamente dovrebbe migliorare, ecco, questo problema qui, considerando che la tendenza della terapia della dermatite atopica, grazie anche a quanto è stato osservato, in medicina umana, noi stiamo cominciando ora a utilizzare questi principi e questi criteri per la terapia dei cani atopici, la terapia di mantenimento dei cani atopici, quello che sicuramente non conviene fare è una terapia reattiva, ma ci conviene fare una terapia proattiva, vediamo di che cosa si tratta. E quindi, praticamente, ridurre il rischio che il proprietario ci chiama e ci dica, dottore, stiamo da capo a 12, no? In pratica, la prima cosa che dobbiamo spiegare ai proprietari è che la dermatite atopica è una malattia cronica che si può curare, ma non si può guarire, cioè noi non siamo santoni né santi e quindi non possiamo guarire la dermatite atopica. Questo va spiegato facendo dei paragoni semplici, come tante altre malattie croniche, la maggior parte delle nostre malattie sono croniche, no? Dall'asma allergica, parlando nell'ambito dell'allergia, al diabete per esempio, no? L'artrite o la psoriasi o quello che vogliamo. Quasi sempre il proprietario ha un'idea di quello che significa avere una malattia cronica che non può guarire e che quindi, se si interrompe la terapia, ricade, no? Questo è normale. La terapia, quindi, essendo una malattia cronica, è cronica a sua volta, non c'è altra scelta. Se si interrompe la somministrazione di insulina o diabetico, la glicemia si rialza e nessuno si meraviglia di questo, no? Mentre invece tutti si meravigliano se si interrompe la terapia del cane atopico e si ricomincia a grattare, no? Questo per dare un'idea. E anche multimodale deve essere e dinamica, no? Questi aggettivi cosa vogliono dire? Multimodale vuol dire che ci devono essere diversi strumenti terapeutici, perché sono diversi i bersagli della terapia, perché diverse sono, abbiamo visto, le componenti che determinano la patogenesi dei segni clinici, l'infiammazione, il prurito, le alterazioni della barriera, la reazione di ipersensibilità mediata da igiene nei confronti di aeroallergeni. E il ruolo giocato nella patogenesi, per l'appunto dei segni clinici, da ognuno di questi elementi può essere diverso nel tempo. Per esempio, nell'estate ci può essere più importanza degli aeroallergeni ambientali, dei pollini, no? E di conseguenza la terapia deve essere dinamica, nel senso che non può essere la stessa nell'arco del tempo né della vita del cane, meno che mai, ma neanche nell'arco dell'anno. Quindi bisogna aggiustarla in continuazione. Come si è detto, non conviene fare terapia reattiva, che è questa, e quindi aspettare che ci siano le lesioni per trattarle, fare un ciclo di terapia, interromperlo, di nuovo ricade, si rifà la terapia. Perché? Perché, allora, prima di tutto non si riesce a ridurre mai l'infiammazione, perché ogni volta si ricomincia da capo. Secondo, si utilizzano più farmaci anche, alla fine, quindi male per i possibili effetti avversi, male per i costi, anche per il proprietario. E in più il proprietario è esasperato, perché continuamente chiama e dice, dottore, stiamo da capo a 12, e questo vi chiama ogni mese, in questo modo, no? E quindi quello che noi dobbiamo fare è un'altra cosa, è una malattia cronica, quindi dobbiamo ottenere la remissione dei segni clinici, con una terapia sistemica, con qualunque terapia consideriamo adeguata in quel momento, e poi con la terapia proattiva, cioè piccole dosi di terapia nel tempo, somministrate anche, e ora vediamo a cosa mi riferisco, quando non ci sono segni clinici bisogna cercare di mantenere bassa l'infiammazione, ridotta l'infiammazione, per in qualche modo ritardare il peggioramento, ritardare la recidiva, che inevitabilmente ci sarà, perché è una malattia cronica. Cosa sappiamo noi di terapia proattiva della dermatite atopica nel cane? Non moltissimo al momento, però ci stiamo lavorando. Sappiamo che è stato utilizzato l'idrocortisone aceponato, in modo utile, se vogliamo. In questo caso, in questo studio, è stato somministrato giornalmente fino a ottenere la remissione, poi questo è il modo pulsatile in cui viene fatta la terapia proattiva. Due giorni alla settimana, mi riferisco all'idrocortisone aceponato, ovviamente. Due giorni consecutivi alla settimana per il mantenimento. E si è visto che il tempo necessario prima di avere la recidiva era 3,5 volte più lungo trattando con idrocortisone aceponato rispetto al placebo. Che significa? Se il cane con placebo aveva una recidiva dopo un mese, il cane trattato aveva una recidiva dopo tre mesi e mezzo, praticamente. Quindi era efficace rispetto al placebo. Lo stesso è stato osservato, stesso modello, per la terapia dell'otite allergica. In questo caso è stato utilizzato sempre idrocortisone aceponato, prima terapia antimicrobica, poi idrocortisone aceponato per una o due settimane giornalmente, ma non come spray, piccoli volumi instillati direttamente dentro il condotto uditivo, non mettendo lo spray dentro l'orecchio. Prima fino a ottenere la remissione del processo infiammatorio e poi due giorni consecutivi alla settimana. Dopo quattro mesi, con idrocortisone aceponato, l'82% delle orecchie erano normali, mentre col placebo solo il 50% delle orecchie erano normali. Quindi è efficace. E questa è un'applicazione molto frequente e molto utile per controllare l'otite allergica, per evitare o per ritardare la recidiva dell'otite diciamo con componente microbica, che è secondaria all'infiammazione, come sulla cute, è la stessa cosa. Più recentemente è stato fatto uno studio retrospettivo su cani trattati con locivetmab regolarmente come monoterapia per un anno e si è visto che è diciamo locivetmab proattivo, un po' meno efficace rispetto all'idrocortisone aceponato usato in modo proattivo, cioè non riesce a ritardare tanto la recidiva, però se vedete dopo tre mesi il 40% di cani non avevano avuto recidive e dopo un anno il 20% di cani non avevano avuto nessuna recidiva. Quindi tornando a noi, se durante il mantenimento si osserva un peggioramento del cane, quindi abbiamo visto come funziona il mantenimento, la terapia di mantenimento della dermatite atopica, se si osserva un peggioramento, che cosa dobbiamo fare? Allora, prima di tutto il peggioramento può essere dovuto a cause allergiche o a cause non allergiche. Ora parleremo prima delle cause allergiche, anche se le prime da escludere sono le non allergiche che vedremo dopo, mi riferisco a infezioni e altre cause. Per quale motivo potrebbe vedersi un peggioramento per cause allergiche? Perché il cane ha acquisito nuove allergie, perché, come si diceva prima, la concentrazione di allergeni ambientali è aumentata, come può succedere in un cane durante l'estate, per esempio, un cane allergico nei confronti dei pollini. È chiaro che il peggioramento può avere una durata più o meno lunga a seconda della causa. Se è un problema stagionale durerà a quei due o tre mesi nell'estate, se è un problema di acquisizione di nuove allergie, li dura tutto l'anno. E anche questo può influire sulla scelta terapeutica. Quello che sì dobbiamo fare, o meglio non dobbiamo fare, è interrompere la terapia di punto in bianco. Cioè, vediamo un peggioramento durante il mantenimento e pensiamo che la terapia non è efficace. Non è così. Ragionevolmente ci sarà da aggiungere, da modificare qualcosa, ma non da togliere la terapia. Ogni cambiamento nei cani atopici deve essere fatto lentamente. Questo perché? Perché non vogliamo che peggiorino. Non bisogna farli peggiorare. Questo l'abbiamo capito dopo tanti anni, eh? A starci dietro. Dopo tanti anni con solo cortisone. Ora abbiamo altri farmaci che ci permettono di ottenere questo. Io ho cominciato che c'era solo cortisone, naturalmente, per trattare cani atopici. Cosa si può fare se il cane peggiora durante il mantenimento? Beh, la prima cosa, si può non cambiare farmaci e aumentare la frequenza di somministrazione di quello che stiamo somministrando. Per esempio, temporaneamente, per periodi brevi, per prudenza, si può raddoppiare la somministrazione di oclacitinib e tornare a darlo mattina e sera, ogni 12 ore. In uno studio preliminare presentato al congresso a Dubrovnik l'anno scorso, si è visto che perlomeno per quanto riguarda, diciamo, alterazioni ematochimiche urinarie, non ci sono problemi con la somministrazione per periodi più lunghi di oclacitinib e bid. Non è prudentissimo farlo però per tempi lunghi, per l'azione appunto sul sistema immunitario. E lo stesso, diciamo, se per esempio durante il mantenimento il cane aveva ridotto la somministrazione a due giorni alla settimana di idrocortisonaceponato, perché lo stava facendo in modo proattivo, oppure la ciclosporina A due volte alla settimana ridotta la frequenza, si può ritornare a darlo il farmaco giornalmente, riaumentare la frequenza. Oppure si può aggiungere altri farmaci. E in questo caso il più maneggevole in assoluto è il locivetmab. Non dà nessun problema di interazione farmacologica, può essere associato a antinfiammatori, a immunomodulatori, a immunosoppressori, a una via metabolica completamente diversa. E quindi sia può essere aggiunto alla terapia, sia si può aggiungere terapia sullo locivetmab, senza nessun problema. Oppure, diciamo, può essere aggiunto idrocortisonaceponato su lesioni localizzate, pododermatiti, otiti per esempio. Oppure possono essere dati anche per brevi periodi, glucocorticoidi per via orale, che rapidamente, per un periodo breve, se si tratta di un peggioramento di breve durata, possono servire a questo scopo. oppure tutte e due le cose in alcuni casi, perché non basta la prima, bisogna aggiungere anche la seconda. Se, diciamo, il peggioramento è lieve, noi possiamo anche provare a non utilizzare farmaci e provare quindi a utilizzare quelle che sono definite le terapie aggiuntive. Le terapie aggiuntive hanno un ruolo anche durante tutto il mantenimento, perché ci permettono in molti casi di ridurre il dosaggio dei farmaci. È fondamentale questo, no? Perché è una malattia cronica, no? Quindi bisogna sempre stare attenti alle terapie che facciamo. E sono i bagni emollienti, come tutti sappiamo, la frequenza dei bagni emollienti, protettori della barriera, una dieta specifica a alto contenuto di acidi grassi essenziali, agli amidi, probiotici e ce ne sono molte altre di queste terapie aggiuntive che ovviamente da sole non riescono a permettere di controllare il prurito in un cane che è peggiorato durante il mantenimento, se è peggiorato tanto. Se è peggiorato poco, magari aumentando la frequenza dei bagni e così via, riusciamo anche a contenere il problema. Di certo la decisione terapeutica va, diciamo, presa sulla base di questo rapporto. I benefici devono pesare molto più dei rischi e anche dei costi. Forse mi sono spostata oltre la linea nera, non lo so se ho sbagliato per la mondo, ho visto che mi guarda il mondo visione, rimango qui. Va bene, quindi rischi più importanti dei costi, ma comunque da considerare anche quelli, ma i benefici devono superare di gran lunga. Poi diciamo che esiste la possibilità, come dicevamo, di un peggioramento per cause non allergiche. Anche se ne parliamo ora, sono le prime ovviamente da escludere e da trattare, prima di considerare. Ogni volta che si ricontrolla un cane atopico, bisogna sempre eseguire ogni volta esami citologici, traschiati cutanei, tutte le indagini di base necessarie per controllare se sono presenti infezioni batteriche, sovracchia di malassezia e così via. Le pulci possono rappresentare una causa frequente di peggioramento dovuto a cause non allergiche durante il mantenimento di un cane atopico, specialmente se non viene fatta una profilassi regolare e costante per gli ectoparassiti, che è fondamentale. Poi, sempre diciamo come cause di peggioramento non di origine allergica, ma problemi associati alla dermatite atopica sottostante, le cause più frequenti sono, come si diceva, sovracrescita di malassezia, sovracrescita batterica e piodermite, sempre da controllare e se presenti trattare prima di modificare la terapia antinfiammatoria o antiprurito o immunomodulatrice. E poi è possibile anche che il cane peggiori per problemi non associati alla dermatite atopica, non solo non allergici, ma anche non associati alla dermatite atopica, anche perché non è, diciamo, che un cane atopico può avere nella sua vita solo la dermatite atopica. La dermatite atopica dura tutta la vita. Più lunga è la malattia, più probabile è che compaiano altri problemi, chiaramente, durante la vita di quel cane. E quindi non è una condanna dire ogni volta che c'è un problema è perché è atopico. Può avvenire anche altri problemi e a volte anche favoriti dalle terapie, a seconda che terapie. Per esempio la demodicosi o la dermatofitosi possono essere favorite a volte dalle terapie immunomodulatrici che durano tanto tempo. Oppure ci possono essere infezioni sistemiche che in qualche modo interferiscono con la risposta alla terapia. Vediamo un esempio. Questo è TAI. Ditemi voi, sono un po' in ritardo? Sì, nemmeno cinque minuti ciò. TAI, un pitbull di due anni e mezzo che da un anno ha una diagnosi dermatite atopica, ha una pododermatite con i soliti prurito, eritema, papula e noduli interdigitali o titeritematosa. Non risponde a terapia antibiotica, non è stata fatta una terapia mirata, però non risponde agli antibiotici, risponde a prenisone, a dosaggio abbastanza alto e di conseguenza il veterinario curante decide di utilizzare una terapia immunomodulatrice più adatta per terapie prolungate, come la ciclosporina A. Prima di iniziare la terapia con ciclosporina A, vengono eseguiti esami ematochimici urinari, ci sono segni di flogosi, il titolo anticorpale antileismania viene positivo al cutoff, 1 a 80. Per confermare che questo sia un titolo positivo non associato a infezione, si esegue una PCR sul linfonodo, viene eseguita dal veterinario curante una PCR sul linfonodo che dà esito negativo. Quindi tutto questo fa pensare che non ci sia un problema di leismaniosi come malattia o come infezione e si sottopone a terapia con ciclosporina A, ma non risponde. A un mese e mezzo di terapia non si ottiene risposta. Si riprende quindi la terapia con prednisone con cui il cane migliora inizialmente, ma nelle ultime 2-3 settimane non c'è risposta alla terapia con prednisone e il cane peggiora. Quindi perché peggiora questo cane atopico durante questa terapia? Può peggiorare perché il processo infiammatorio non è ben controllato da questa terapia antinfiammatoria, può peggiorare, e vediamo le immagini, perché c'è un'infezione batterica profonda, magari associata a Staphylococcus pseudointermedius meticilino resistente, oppure potrebbe in qualche modo essere di nuovo ritirata in ballo quella leismaniosi che sembrava non essere quindi la malattia sistemica che interferisce con la risposta alla terapia, che sembrava essere stata esclusa 7 mesi prima. Queste sono le lesioni, ci sono lesioni ulcerative, eritema, scaglie, ipercheratosi, poi c'è questa lesione qui che ci indica che ragionevolmente ha avuto un'emorragia ungueale questo cane, c'è un'onicopatia. Questo non è molto tipico della dermatite atopica, anzi assolutamente non lo è, e quindi ci accende. Vi ricordo che gli occhi collegati al cervello continuano ad essere uno strumento diagnostico fondamentale in dermatologia, cioè guardare le lesioni è fondamentale. In questo caso il nostro programma qual è? Fare gli esami ematochimici urinari generali, ripetere la sirologia della leismaniosi e poi in anestesia fare biopsie cutanee con esame istopatologico, esame batteriologico da campioni di tessuto e fare anche una PCR midollare per escludere definitivamente, dato che sul linfonodo la sensibilità è inferiore rispetto al midollo, escludere questo problema dell'infezione da lesmania. Ci sono segni di flogosi, iperproteinemia marcata e ipergamma globulinemia. Istologicamente c'è una dermatite granulomatosa diffusa con amastigoti di lesmania, tutti questi puntini qui quando si vedono, ora non so se li riuscite a vedere, ma si dovrebbero vedere, quando si vedono così tanti amastigoti sui matossilineusina vuol dire che sono proprio numerose le leismanie e i desiti di foruncolosi, questa è una sezione di pelo. All'esame batteriologico si isola uno staphylococcus pseudo intermedius meticilino resistente e multiresistente. La PCR sul midollo è positiva e il titolo anticorpale è molto elevato. Questo, diciamo, è un cane malato che va trattato per forza. Ora, da qui a sapere qual è il ruolo giocato dalla leismaniosi nella patogenesi di questo processo infiammatorio, lo potremo vedere soltanto dopo aver trattato da leismaniosi. Il cane si tratta con successo, con antimoniali e allopurinolo, la terapia antibatterica è una terapia topica, non si somministrano antibiotici per via sistemica, anche perché pur essendo un batterio particolarmente molesto, diciamo, si considera che l'infezione batterica non gioca un ruolo così importante nella patogenesi delle lesioni. Ma il cane migliora clinicamente, ma l'estate successiva ritorna al problema. Perché? Perché il cane continua a essere atopico. Il cane ha avuto un problema di malattia, di leismaniosi. Non si sa se è favorito dal processo infiammatorio cronico, dalla terapia immunosoppressiva, che è stata utilizzata, ma diciamo, quello ha determinato la mancanza di risposta alla terapia in quel momento in cui l'abbiamo visto, ma la dermatite atopica gli resta. E quindi l'estate successiva di ritorno alla dermatite atopica, con la sua pododermatite, risponde a basse dosi di glucocorticoidi, quindi è un cane atopico infetto. Questo è un cane che potrà essere trattato con glucocorticoidi per brevi cicli, per via orale, a dosi ridotte, con una terapia proattiva con glucocorticoidi topici, oppure con locivetmab. Ma in questo caso, probabilmente, diciamo, l'azione antinfiammatoria potrebbe non essere sufficiente, quella del locivetmab, per controllare il problema. E con questo ho finito. E sono contenta perché sono rimasta sempre nello spazio giusto, che era la cosa più complicata. Vi ringrazio. Vi ricordo che ho visto molti di voi fare delle foto alla presentazione. Se passate dallo stand e lasciate la vostra email, vi inviamo il link per vederla, la registrazione attuale, quindi con tutti i dati e il documento. Quindi vi ringrazio ancora e buon proseguimento. Grazie alla dottoressa Fondati. Non so se volete fare domande? C'era qualcuno che vuole fare domande? Domande? Sì, perfetto. Vedi. Allora, vorrei sapere che differenza c'è rispetto alla resistenza con i diversi antinfiammatori, eccetera, eccetera. Insomma, se c'è qualcuno che dà prima resistenza rispetto ad altri. Resistenza alla terapia antinfiammatoria? Esatto, perché tipo con l'apoquel, insomma, dopo due o tre volte che uno fa l'apoquel diventa resistente il cane e quindi non ha più il risultato. Io non sono, diciamo, non sono, posso dire, non sono tanto d'accordo su questa osservazione, nel senso che credo che il problema principale sia proprio questo, che, diciamo, si attribuita a volte l'efficacia al prodotto e la non-efficacia al prodotto, ma cambia, diciamo, in funzione del quadro clinico l'efficacia del prodotto e del problema. Mi spiego. L'apoquel potrebbe essere meno efficace se si tratta un cane atopico con una dermatite da malassezia in corso. Bisogna prima togliere la componente infiammatoria legata alla dermatite da malassezia, trattare la dermatite da malassezia e poi, diciamo, valutare la risposta dell'antiprurito antinfiammatorio. Non c'è resistenza, cioè, nei confronti, perlomeno non si riporta, non ha poi, da un punto di vista anche di farmacocinetica, non ci sarebbe ragione, da farmacodinamica nemmeno, di sviluppare resistenza nei confronti dei farmaci. Credo che sia proprio il problema legato alla dinamicità della dermatite atopica nel tempo. La dermatite atopica cambia. Un farmaco che può essere efficace ora può essere non efficace tra sei mesi, ma non perché è il farmaco che perde efficacia, perché è cambiata la situazione cutanea di quel cane, perché ci sono altre, ci sono complicazioni microbiche dovute alla dermatite atopica, perché c'è un ruolo diverso del prurito o di tutte le varie componenti patogenetiche delle lesioni. Non so se sono necessità spiegarle. Riprendere in esame meglio il quadro, insomma, in poche parole. Allora, come si diceva, per telefono non si può risolvere niente, noi bisogna rivedere il paziente, ripetere tutte le indagini, esame citologico, sempre, questo sempre. E quindi in ordine escludere e trattare le cause microbiche possibilmente associate alla dermatite atopica, vedere che non ci siano altre malattie che possono mascherare il quadro e quindi mascherare la risposta alla terapia, un cane atopico può prendere anche la rogna sarcoptica, non è che perché è atopico deve avere per forza solo la dermatite atopica, è come un cane con la lesmagnosi, non è che un cane con la lesmagnosi, qualunque cosa gli succeda, è sempre colpa della lesmagnosi. Cioè, tutte le malattie croniche possono essere concomitanti con altri problemi. Non so se sono riuscita a spiegare. Posso fare, anzi, sarebbero tre, ma brevissime. Tre? Forse anche stupide, però la curiosità è troppo forte. Dunque, ho un caso di… Speriamo di saper rispondere. No, figuriamoci. Un caso di pododermatite particolare che colpisce stranamente sempre la stessa zampa, è possibile una cosa del genere? Una pododermatite papulo nodulare? Sì, con questo aspetto. Un caso anteriore? Esatto. Uno spazio interdigitale laterale di un cane di grossa taglia a pelo corto. Sempre lo stesso. Certo. E non si manifesta in altre zampe mai. Allora, in questo caso è poco probabile che ci sia, diciamo, poco probabile. Ragionevolmente il quadro infiammatorio, forse legato a un'allergia sottostante, non è così importante. Bisogna considerare che nella patogenesi di queste lesioni papulo nodulari interdigitali entrano tantissime cause. In particolare nei cani a pelo corto di grossa taglia, che possono avere anche, diciamo, difetti di postura legati a problemi ortopedici. Spesso c'è una lesione nello spazio interdigitale laterale ricorrente, perché è lì dove grava la maggior parte del peso del cane. Se poi c'è un difetto di postura, ancora di più, perché grava solo sulla parte laterale. In più c'è lo sfregamento della frizione dovuto al pelo corto, c'è la foruncolosi con il corpo estraneo endogeno rappresentato dalla cheratina, c'è il camminare su terreni accidentati e tutto contribuisce. E quindi sì, in questi casi, quando è lesione singola, una volta escluse tutte le altre cause sottostanti, si può considerare anche l'asportazione con laser, l'intervento chirurgico. Perché è proprio un aspetto che ricorda il classico corpo estraneo, proprio identico. Eh lo so, lì c'è un corpo estraneo endogeno, sono foruncoli, c'è un corpo estraneo endogeno che è la cheratina, dovuta alla rottura, diciamo, della parete follicolare, si libera cheratina nel derma, dal luogo una reazione infiammatoria più granulomatosa, ma il problema è chi la mantiene. Devi fare una visita ortopedica per escludere se è un arto anteriore, che non ci sia un problema di spalla o di vomito, se è un cane molossoide o un cane grosso o anche un labrador stesso, per esempio, un boxer, possono essere frequenti. Se specie viene su un anteriore soltanto, eh? Su tutte e due, ma su uno è facile che ci possa essere una causa di postura. Poi è più corretto seguire una sequenza specifica, siccome abbiamo parlato di tre principi attivi fondamentalmente, cortisone e gli altri due... No, quattro. Quattro. Glucocorticoidi, ciclosporina A, oclecitinib e lochivetmab. C'è una sequenza, preferibilmente la seguire o no? Dunque, no, non c'è una sequenza, come si diceva, non è una sequenza, non è che si comincia con uno e poi si passa agli altri, diciamo, la scelta deve essere fatta in funzione di tanti elementi che sono in parte il quadro clinico, ma non abbiamo marker clinici che ci permettano di sapere in anticipo se risponderà meglio a una terapia o all'altra, però in generale se consideriamo l'infiammazione dominante rispetto al prurito nella patogenesi del segno clinico, useremo più un prodotto ad ampio spettro rispetto a uno a stretto spettro, la durata necessaria della terapia va considerata, quindi i glucocorticoidi non sono adatti per terapie a lungo termine, chiaramente sono più adatti per terapie a breve termine e poi diciamo i criteri variano, cioè non esiste, diciamo, al momento non abbiamo possibilità di fare quella che si chiama la terapia di precisione che si fa in medicina umana, cioè è una terapia personalizzata, perché non sappiamo i criteri per poter dire questo. Ultimo, nel caso in cui abbiamo davanti a noi un soggetto, un cliente di quelli che insomma hanno un po' di fretta, voglio dire, è proprio così malpractice per esempio… La malattia cronica non va d'accordo con la fretta, cioè è impossibile, e la dermatologia meno che mai. Dico, è così malpractice se noi quando lo rivediamo per una recidiva, per esempio facciamo direttamente un trattamento per escludere delle cose più rapidamente con ivermectina oppure uno shampoo medicato per quanto riguarda la possibilità della presenza di malassezia, ecco, cioè per abbreviare i tempi, è così scorretto fare queste procedure senza rifare di nuovo tutte le analisi. Per rispondere la verità? Sì. Ok. No, l'iter è quello, ma non è un problema, perché non c'è, non è possibile accorciare, non c'è verso, non si accorcia, cioè quello è quello che c'è da fare, altrimenti diciamo se migliora non sai perché, se non migliora non sai perché e non gli riesci a dare una risposta a lungo termine. Ti sembra di far contento tra virgolette il proprietario, in realtà non stai facendo contento né il proprietario né il cane. Quindi il nostro obiettivo è quello di gestire sul lungo termine, perché è una malattia cronica, quindi non è possibile fare cose spot in questo modo qui. Ma d'altra parte non è un grosso problema, perché durante tutto l'iter di agnostico, ora per esempio, si può mantenere il cane con oclacitinib durante la dieta di eliminazione, anche se il cane è atopico e quindi non migliora durante le 8 settimane di dieta, il prurito viene controllato. Alla fine delle 8 settimane si sospende l'oclacitinib e si mantiene solo la dieta e si vede se il cane, diciamo, peggiora, vuol dire che è migliorato solo grazie all'oclacitinib, se invece non peggiora può essere migliorato grazie alla dieta. Quindi non è che tutto questo significa condannare il cane a due mesi di prurito. No, no, il prurito deve essere comunque trattato, però le cose vanno fatte con un certo ordine. Grazie.